E' un'intensione di piazza, di piazza l'aria, spostiamo alla carta male di ultimi due giri la Suzuki, numero 25, ecco qua che arriva, numero 25, due giri, ecco Toni Caeroni, in seguo c'è un po' di traffico però, è la 7 e 3, poi 6 e 8 e 5, e adesso per altri giri sono pochi, Nagler a 9 secondi, quarto The Diker, che passa ora con 22 secondi.